Nella seconda giornata di C2, nel girone A, un'altra prova difficile per lo spinaceto 70. La squadra di Rossetti, dopo aver perso contro il Santa Marinella, va al pala di fiore, sul difficile campo dell'Itex Fuzzalostia, che ha pareggiato la prima. Pareggio ottenuto in rimonta sulla Pisana, che è attesa invece in trasferta sul campo del Valle dei Casali. Villa Aurelia Blue Green, Ronciglione Nord-Ovest, Active Network Ponte Galeria e Aranova Aurelio completano la giornata. Nel girone B, la matricola Colli Albani, si opporrà alla capolista Virtus Stellazzurra, orfana di Angelini squalificato. La Vigor per Conti tenterà di rilanciarsi sul difficilissimo campo della Virtus Sanguillara, che ha schiacciato alla prima il Valencia. Proprio il Valencia si trova di fronte il temutissimo Palombara, che ha vinto con qualche difficoltà sul Parione, che va in casa del number 9. Cortina Guidonia, Tor di Quinto Football Club e Spes Fenice, le altre partite di giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS